10 tipi di donne da toglierti dei coglioni rapidamente. Allora, quali sono questi tipi di donne che devi togliere dei coglioni rapidamente? Beh, la prima è la femme fatale. È una donna alla Jessica Rabbit, diciamo, bella, però inevitabilmente, diciamo, tende a essere seduttiva verso molti uomini, è appariscente, ma ti fa, diciamo, è probabile che prima o poi le corna ci saranno, anche perché la femme fatale ha proprio l'esigenza di sedurre gli uomini. È un suo bisogno intrinseco, quindi, certo, puoi tenertela come svuotamento testicolare, ma non per mettertici assieme. Poi un'altra tipologia di donna, la seconda tipologia di donna che devi togliere dei coglioni, è la carrierista spietata, un po', diciamo, il diavolo veste prada, no? Alla tizia lì, la direttrice. Perché queste sono sprezzanti, ciniche e quindi nella vita privata poi spesso sono, come possiamo dire, dei fantasmi, no? e sono disposti a trascurare tutto per la carriera fondamentalmente. Ecco, quindi questo tipo di donna, anche qua, va bene così, ma non per pensare di eventualmente costruire qualcosa. Sono anche spesso fredde, algide. Poi abbiamo la libertina. La libertina è irrimediabilmente attratta dal sesso, un po' come un uomo da questo punto di vista. È una sciupatrice di uomini, diciamo così. Quindi quelli buoni per lei, anche quelli che potrebbero essere validi, non sono mai abbastanza convincenti per lei per farci una storia seria. È una donna che conquista, ma dopo poco tempo lascia, e poi comunque passa sempre di fiore in fiore e lo fa esattamente sia per il sesso, sia per altre motivazioni secondarie, diciamo così, non soltanto per il sesso. Il sesso diventa uno strumento comunque. Poi abbiamo la manipolatrice. La manipolatrice è una donna, appunto, che usa e manipola, sfrutta, diciamo, le persone, cerca di umiliare anche qualche volta, e bieca senza cuore, le interessa solo una cosa, cioè quella di preservare la sua reputazione, ma poi, diciamo, sono donne che dietro la maschera, diciamo così, dal cappuccetto rosso, sono poi un lupo cattivo. Quindi, quando ti rendi conto che hai a che fare con una donna che ti mente abitualmente, che ti manipola, che cerca, devi mantenere gli occhi aperti, perché qua è difficile rendersene conto, ma se te ne rendi conto, poi la mandi a fare in culo, anche molto rapidamente, perché di fatto sono persone inutili da toglierti dai coglioni al più presto. Questo è un altro punto fondamentale che devi tenere in considerazione. E poi abbiamo la sfruttatrice. La sfruttatrice è un po' diversa dal tipo precedente, perché sfrutta la gentilezza, poi, diciamo, lei gioca soprattutto con l'infatuazione, una delle persone, e le sfrutta per ottenere prestiti economici, favori in genere. Lui ci casca e poi, alla fine, alla fine non ottiene niente, soltanto prenderselo in quel posto. Quindi, quando vedi che una tende allo scrocco, tende a scroccare, devi levartela dalle balle, perché altrimenti non ti... come dire, questa tipologia di donne sono inesorabilmente delle merde da togliersi dai coglioni. E poi abbiamo la stalker. La stalker, che non riesce a far su una ragione, diciamo, del fatto che viene rifiutata, e inizia a tampinarti, a bombardarti, a perseguitarti, a dare fastidio. Beh, in alcuni casi, poi, non so, in casi di attrazione fatale, ad esempio, diventa veramente pericolosa. Occhio alle stalker, perché rompono il cazzo, e quindi prima che diventi una stalker, quando capisci che è eccessivamente positiva, è possessiva, eccessivamente, diciamo, come dire, rompipalle, devi togliere dai coglioni in modo molto, molto, molto rapido. E poi abbiamo la traditrice. La traditrice, quella che, diciamo, ha sempre, si tiene tanti uomini nel cassetto, ogni tanto ne tira fuori qualcuno. Questo avviene, diciamo, molto spesso. Lo fa per noia, lo fa per trascurtezza, spesso lo fa anche per, come dire, una revenge, diciamo, nei confronti del padre, ad esempio, dal quale si è sentita tradita, per cui tende un po' a tradire, fondamentalmente. Un'altra tipologia di donna che devi levare dai coglioni è la gatta morta. La gatta morta che finge di essere coinvolta, però, diciamo, si coinvolge con uomini sposati. Quindi l'obiettivo della gatta morta è quello di sottrarre fondamentalmente il marito e l'amica, ma non per tenerselo. Però una volta che questa è innamorata, è cotta, magari lascia la moglie o fa qualcosa, lei lo lascia perché non è più interessata. E quindi la gatta morta è anche un tipo di donna che bisogna eliminare più presto. E poi abbiamo la spendacciona. La spendacciona è una che, diciamo, spende e spande e soprattutto, qua, come dire, se spende del suo, cazzi suoi, ma se avere una relazione stabile con una donna così, diventano anche cazzi tuoi, perché, diciamo, inizierà a spendere anche soldi tuoi, che tu magari ti guadagni con fatica, per cui è un altro tipo di donna che bisogna levarsi, levarsi dal cazzo molto, molto rapidamente. Ecco, queste sono le tipologie di donne che devi eliminare molto rapidamente dalla tua vita. Se non lo farai, resterai impelagato in situazioni che non ti porteranno bene, insomma. È ovvio che se incontri una donna che ti prende, prima di lasciarti coinvolgere, inizia la frequentazione ma non lasciarti coinvolgere, perché devi cercare di capire se appartiene a una di queste categorie. Se appartiene a una di queste categorie, levatela dal cazzo, subito, chiudi e trotene un'altra, perché con queste non c'è niente da fare. Bene, per questo video è tutto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi su Instagram è Massimo Terramasco ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che su tutti i canali è possibile abbonarsi.